A cosa serve la Messa? Papa Francesco, se lo è sentito ripetere tante volte la domanda così frequente, gli offre all'Angelus lo spunto per riflettere sull'Eucaristia, che il Vangelo di Giovanni propone nella liturgia delle ultime domeniche. Gesù ribadisce, lascia l'Eucaristia con uno scopo preciso, che noi possiamo diventare una cosa sola con Lui. Non è un modo di dire, afferma Francesco, perché il pane consacrato durante l'ultima cena è culmine di un gesto precedente e rivelatore, la moltiplicazione dei pani, anch'essi, come poi l'Eucaristia, spezzati e distribuiti per sfamare l'umanità non solo nel corpo. La comunione, asserisce il Papa, è proprio una assimilazione. Mangiando Lui diventiamo come Lui, ma questo, precisa, richiede il nostro sì, la nostra adesione alla fede. L'Eucaristia è Gesù stesso, che si dona interamente a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la comunione eucaristica, se lo facciamo con fede, trasforma la nostra vita. La trasforma in un dono a Dio e in un dono ai fratelli. Nutrirci di quel pane significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. Significa entrare in un dinamismo di amore e diventare persone di pace, persone di perdono, di riconsigliazione, di condivisione solidale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.